Oggi è un giorno di lutto per l'imprenditoria italiana, è un giorno di lutto per la storia della Fiat che con l'avventura di Marchionni in Chrysler e in Stati Uniti ha trasformato una grande realtà imprenditoriale italiana che dava lavoro, occupazione, lustro al nostro paese in una macchina, mancia soldi e finanziaria, a scopi direttamente finanziari, che chiudono gli stabilimenti in Italia per aprirli in altro posto. La questione di Termini Miresi è ancora più vergognosa perché ancora tre anni fa Marchionni aveva promesso 100 milioni di euro di investimenti per rilanciare la nuova Y in Termini Miresi e con questa promessa ha ottenuto anche finanziamenti e contributi dallo Stato e adesso è chiusa che si sta portando avanti la fabbrica altrove, mettendo a rischio, rovinando posti di lavoro infiniti. In questo senso l'Italia Valori contrasta totalmente questa assenza politica del governo che in questi ultimi anni ha lasciato fare alla Fiat ciò che per esempio Sarkozy non ha lasciato fare la Renault o la Merkel e non ha lasciato fare la fabbrica tedesca di automobili.